C'è sta un passeggero nel taxi, a un certo punto gli appoggia la mano nella spalla, il tassista un urlo tremendo, schiva un pullman, struscia il marciapiede, se ferma al lato della strada gli fa non lo faccia mai più! Il passeggero gli fa scusi, non pensavo che se mettesse così paura, no no scusi lei, è che è il primo giorno da tassista, fino a ieri guidavo il caro funebre.